siamo come siamo buongiorno bimbe questo è il progetto un secchio di fiori è realizzato interamente in feltro modellabile 2 mm girasoli papaveri e margherite cosa dovete fare per realizzarlo intanto per vedere come si realizzano i girasoli e di papaveri trovate il tutorial sul canale youtube merceria creativa che abbiamo fatto lo scorso anno quindi per vedere per avere dei chiarimenti potete tranquillamente andare a vedere il tutorial che abbiamo già fatto ok uno dei papaveri e uno dei girasoli sono separati ma li trovate senza problemi andando sul canale youtube detto questo per realizzare le margherite è semplicissimo tolgo la margherita dal vaso dovete praticamente inserire la pallina di due centimetri di polistirolo nel metallo modellabile cioè inserite il metallo modellabile nella pallina vabbè uguale rivestite la pallina con il feltro modellabile giallo ritagliate i petali del della margherita e l'incollate semplicemente intorno è veramente veramente semplice rivestite i gambi del della singola margherita con il feltro modellabile verde non mi vengono manco le parole dopodiché andate ad attorcigliare in questa maniera le due margherite e le inserirete nel vostro vaso come si realizza il vaso allora il vaso si realizza in questo modo allora venite bellini si toglie tutto tutta la fiorita se tutta la fiorita dal vaso e vediamo il secchio il secchio eccolo e sa cosa faccia ave come diceva ci giulio cesare allora il secchio è praticamente questo ritagliate due pezzi per ogni lato del secchio sul feltro modellabile chiaro che trovate nel kit può essere sabbia può essere grigio perla quindi chiaro e andate a fare il punto festone su tutti e quattro i lati unirete poi i quattro lati ovviamente la base in fondo e realizzerete questo secchio questo secchio fatto questo andrete a inserire all'interno del del secchiello la lettiera messa in una busta in un contenitore sia una busta di nylon in modo che non esca fuori metterete la spugna la spugna che trovate nel kit rivestite con il pannolenci verde come vedete andate a forare con le forbici con la punta delle forbici o con qualcosa altro un cacciavite anche va bene in questa maniera e inserirete i fiori all'interno ok semplicissima operazione da fare inserite i vostri fiori come più vi piace e la composizione è pronta il fiocco è fatto semplicemente facendo il laccio intorno al secchiello se volete potete fare il punto filza nel colore rosso se preferite insomma per farlo più carino e poi andate ad incollare davanti il fiocco che avete ritagliato sul feltro rosso quindi il cos'è sì poi va girato sì un attimo però lo dicevo allora girate il bordo del vostro secchiello e le gesonfe gioco è fatto e basta non mi sembra ci sia da dire altro il kit lo trovate già disponibile tante di voi lo hanno già fatto chi non lo ha fatto lo può acquistare sul sito www.merceria-creativa.com oppure mi iscrivete su whatsapp al 345 4273 111 il kit viene 38 euro perché effettivamente è un settio di fiori ciao imbe